Il rilancio ovviamente sta dentro il quadro di riconversione di tutto il parco vetture verso l'auto elettrica, sono noti i programmi industriali del gruppo Stellantis per quello che riguarda la conversione verso la completa mobilità elettrica con obiettivi ambiziosi di vendite sia nell'Europa che nel mercato nordamericano. Dentro questo quadro il ruolo di Dora Fiori è stato ribadito e centrale sia per quello che riguarda la produzione diretta sia per quello che riguarda gli aspetti più connessi al processo di produzione dell'auto elettrica, quindi tutto quello che riguarda i temi relativi alle batterie, alla ricerca scientifica e tecnologica sui materiali, che era esattamente quello che diciamo così col Presidente Cirio avevamo focalizzato come obiettivo di sistema relativa a quella che è la prospettiva di questo sito.